Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta Ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta Ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo Sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta Siamo il popolo del web, in diretta con le webcam E ci passiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori, sono qui su Radio Raffaella 1 Non mi sento in cuffia, non fa niente Con il programma Risentirle Stelle Un programma condotto da Gianfranco, da me, dal nostro caro Giuseppe Buonasera E la carissima Franca Buonasera A volte ritorna Oggi è in gran forma Giuseppe Con le informazioni, con finalmente un suo, delle sue chicche, delle sue informazioni E speriamo che continui a darci sempre delle emozioni Perché dovete sapere che Giuseppe ha sempre un lasso nella manica Stasera c'ho le maniche corte Gianfranco Ma hai corti impreparate, la prossima volta, dimmi che mi porto le camicie E quindi, detto questo, diciamo così che vogliamo fare un resoconto C'ho un lasso nel taschino, dai Ma vuoi subito sparare in manetta? La prima bomba? Vabbè, una notizia che ho data anche su Facebook Samattina, andando in macchina ad accompagnare mia figlia a scuola Perché io praticamente in questi giorni di ferie Che hanno fatto un bond e un po' più lunghetto dove lavoro io Ho sentito una notizia veramente Ma poi la persona che l'ha data, no? Sul Radio 2 Il programma che fanno Bruno Vespa e il figlio Bruno Vespa cosa ha detto a un certo punto? Ha una domanda da un radioascoltatore da casa Che diceva Carissimi, ma non si può fare come in Germania Che dopo sei mesi hanno fatto un contratto di governo sui programmi? Punto interrogativo Bruno Vespa ha risposto Mi aspettavo una risposta un po' Vaga Sì, vaga Invece no, lui ha dato proprio diretto Ha risposto Ha detto Senti, caro ascoltatore Forse non l'hai capito Ma il Rosatellum era stato fatto per un altro patto del Nazareno Cioè praticamente Di nuovo era un accordo fra Renzi e Berlusconi Bello chiaro chiaro Detto da Bruno Vespa Io lì per lì sono rimasto proprio a libido Forse questo era accaduto a letto stanotte Forse gli hanno fatto lo scherzo della mità Sai quando mettono le brande una sull'altra E caduto dalla seconda brande? Non lo so Perché proprio detto da lui Cioè proprio sono rimasto senza parole per alcuni secondi Vabbè, forse l'avrà capitato anche lui Quindi ci sono gli altarini che escono a gallo Questa è la prima bomba Proprio sentita a volo sulla radio Poi l'ho condivisa anche sui social No, vabbè Ma noi dalla nostra parte Diciamo sempre in questo programma Risentire le stelle di venerdì sera Diciamo Signori cari Aprite gli occhi Perché tutte queste difficoltà Aprite le orecchie No, con gli occhi Allora, le orecchie Noi le stiamo dicendo con la radio Stiamo dicendo quali sono le caratteristiche Di queste persone che stanno Diciamo Dietro il potere Perché adesso è tutto in fase embrionale Non si sa bene la destra e la sinistra Però sono persone che ci stanno da anni No, è la prima fase Gianfran Allora, la prima fase si era chiusa Con il tentativo di accordo con la destra Allora, tutti quelli del PD che dicevano No, ma tu l'accordo lo dovevate fare con il PD Giusto? Non so quante persone Forse anche tu hai seguito Perché il 18% Volevano loro Poi che è successo? Si è chiusa la fase del tentativo di accordo Che poi non è un accordo Non è un'alleanza Poi lo spiegheremo meglio Anche Luigi Di Mano lo spiegherà Durante il corso Perfetto E siamo aperti diciamo A un dialogo con il PD Cos'è successo? Tutti quelli del centro-destra No, ma voi dovevate fare l'accordo con Salvat Cioè questo è bellissimo Guarda Cioè è proprio tipico degli italiani E sono due mesi Che Di Mano sta dicendo sempre le stesse cose Cioè non cambia No, ma non cambia parole Dal quattro mese Contratto sui programmi Quattro, cinque punti Che servono diciamo A far ripartire l'Italia Ma soprattutto aiutare i cittadini Milioni di cittadini in difficoltà Certo, certo E questo è Cioè niente di più Non si riesce ad accettare questa filosofia molto semplice Contratto di questo Ci mettiamo d'accordo Ma lui si è rivolto all'inizio A tutte le forze politiche Cioè senza iscrudere nessuno Poi è chiaro che tu inizi a parlare con qualcuno Poi passi ad un altro Ma gli italiani sono così abituati a pensare Alle alleanze E agli inciuci Oppure a questo scambio di poltrone sotto banco Che ormai li fanno da trent'anni Che non riescono ad uscire da questa filosofia Da questa mentalità Cioè non si riesce ad andare oltre No infatti E stiamo rimanendo impantanati Ma anche sui social Tu vedi no Quello di destra e quello di sinistra Dici no ma l'accordo con noi No l'accordo con noi Fra un po' Ci togliamo Dici sentite Liticate fra di voi Poi mettete d'accordo E venite da noi Io dico solo una cosa Che la differenza che c'è tra l'Italia e gli altri stati Allora ricordiamo che la differenza che quando in governo Come l'Italia Ancora non è partito una classe dirigenziale che si chiama governo Non Parlamento Che il Parlamento c'è Ormai si sa che quanti stanno a destra e a sinistra e a centro L'Italia senza governo non può risolvere delle questioni in sospeso Mentre negli altri stati esiste una caratteristica di continuare a gestire le azioni quotidiane In Italia che è dove ci sta il problema dell'Italia Dove ci sono dei contratti da definire Dove ci stanno dei fondi che devono andare in certe direzioni In Italia senza governo che finisce di firmare e approvare delle cose Siamo paralizzati Cioè in Italia se si parla di un mese o due mesi o tre mesi Tutto il tempo che staremo fermi senza governo Sarà grave Perché ci sono una serie di situazioni regionali Fondi che devono arrivare alle regioni Che dopo devono essere girati A livello di sanità Sono tutti fermi Tutti bloccati Quindi voglio dire Non è una cosa seria È una cosa più seria di cui possiate immaginare Cioè è una cosa che non ce lo possiamo permettere Non ce lo possiamo permettere Né per dare garanzie all'Europa Che ci guarda così in attesa Né perché in Italia abbiamo questo carattere Diciamo che le urgenze proprio Le ha espletate ancora il governo di Gentiloni in carica Proprio quelle più Il DEF e altre due o tre cose Le hanno fatte loro momentaneamente Anche un po' diciamo superficialmente Cioè non andando proprio fino in fondo Nelle decisioni per quanto riguarda l'IVA E queste cose qua Hanno detto delle cose Non le hanno fatto passare chiaramente Però il DEF è stato approvato Diciamo così in via provvisoria Da questo governo ancora in carica È vero che ci sono altre urgenze Molto più importanti da affrontare E quindi si aspetta questo nuovo governo Però io devo dire la verità Sono molto dubbioso Sulla possibilità di un accordo O con la destra O con il PD Perché purtroppo ci sono troppi Interessi in gioco Troppi L'ha detto anche Grillo Stamattina sul blog Ha detto ragazzi Lo dico ai grillini dell'ultima ora È inutile che vi date pugni sul petto O che fate le crociate O che salite in Monte Calvario Non serve Perché nessuno dei due Ha realmente interessi a fare il bene Della nazione Del paese e dei cittadini Perché quando tu gli vai a proporre Un conflitto di interessi Vai contro a Berlusconi Quando tu gli vai a proporre Il reintro del Jobs Act Scusate Su Job Act Non si capisce mai Vai contro gli interessi di Renzi Perché praticamente Vai a dire a Renzi Che la legge che ha fatto Fa schifo E quindi vai contro le leggi Che loro hanno approvato O contro i loro interessi Quindi non ci sarà mai un accordo Queste sono solo Dei tentativi purtroppo Di evitare un altro Nazareno Questa è la chiave di civolte Luigi Di Maio sta da due mesi Tentando in tutti i modi Di fare un governo alternativo In modo che il presidente Della Repubblica Mattarella Messo da loro Ricordiamolo Non intervenga a gamba tesa Su tutto E piazzi un altro governo Di scopo O tecnico O chiamiamolo come vogliamo chiamarlo Oppure che si dia via libera Al PD Sia il PD Per l'ennesimo governo Sostenuto da una personalità Al di fuori Super partes Come la chiamiamola Come vogliamo Un Monti della situazione Oppure un Tajani Che viene dalla Commissione Della presidenza Di Commissione Europea Ma io non ci credo E insomma Sta evitando questo Cioè sta facendo di tutto Per evitare questo Per lasciare di nuovo Campo libero a loro E per fare in modo Che si inizi Veramente a parlare Di cose che interessano Ai cittadini E a del paese Quali sono queste cose L'abbiamo detto un sacco di volte Reintegro dell'articolo 18 Jobs Act Abolizione o riduzione Diciamo A tempo Della legge Fornero Perché sinceramente A me è arrivata La lettera dell'Inps Andare a 70 anni Io non credo Spero di arrivare a 60 Sulle mie gambe Ma a 70 Credo che sia un po' difficile E non penso che Marchionne Voglia tenere aperti Gli stabilimenti Fino alla nostra pensione Me lo auguro Ma non ci credo Perché tenere un operario A 70 anni In un'azienda Non penso che convenga a nessuno Anche per una questione di sicurezza Quindi sicuramente La legge Fornero Va rivista E questi sono i punti Un po' più Poi la questione immigrati Ma la questione immigrati Va affrontata Ma l'abbiamo sempre detto Anche noi come 5 Stelle Sicuramente non come dice Salvini con la ruspa Ma in modo Diciamo con criterio Identificando queste persone Vedendo effettivamente Se hanno necessità Di rimanere O sono persone Criminali O persone che non sono Identificate Devono andare a casa Assolutamente Devono ritornare Nel loro paese di origine Questo è fuori discussione Ma queste sono parole Discorso che abbiamo già fatto E affrontato Il programma del momento Non cambierà mai È sempre quello Cioè cambiano le persone Possono cambiare i portavoce Possono cambiare le persone Di Battista non si è candidato Cioè Però i punti del programma Rimangono sempre quelli Non cambieranno mai Cioè l'unica cosa Che non siamo riusciti a mettere in porto Che a volte ci rinfacciano Il fatto del referendum Sull'euro Bene Io voglio dire solo una piccola cosa Nel periodo che andammo a raccogliere le firme Io andai fino a Prato la Serra Mi sono offerto Diciamo A Carlo Sibili Dagli una mano E andare a prendere le firme A Prato la Serra Praticamente I moduli delle firme Non dico che erano vuoti Ma Allora dico Quando le persone si lamentano Di questo raggiungimento mancato Di questo obiettivo No? Ma dove eravate Quando abbiamo chiesto Di firmare i moduli Cioè Quando abbiamo chiesto le firme Dove eravate? Allora Su una popolazione Diciamo di 50 milioni di abitanti Come l'Italia Diciamo che 40-35 sono votanti Possono votare Possono firmare No Allora se tu ti presenti Con 700.000 800.000 firme Per fare passare i referendum Secondo te lo accettano? No E' quello che è successo a noi Ma se si fossero presentati a firmare 2-3 milioni di persone 4 milioni Allora il referendum dell'euro Si faceva sì o no? Questa è la domanda Allora è inutile che ci venite a rinfacciare a noi Questo mancato obiettivo Perché purtroppo La colpa è vostra Così come quando vi abbiamo chiamati A protestare per la legge elettorale Rosatellum Quando i portavoci vi hanno detto Venite in piazza Perché se no questa gente Fa il comodo loro E non si è presentato nessuno Se non gli attivisti del movimento I soliti I soliti Ha detto anche di Maio Di Battista Una rivoluzione pacifica Una presenza in piazza Per far capire a quelle persone Che devono avere paura Ma non di una rivoluzione Ma paura del popolo Cioè se tu porti 50.000 60.000 persone in piazza E gridano contro l'approvazione della legge Io penso che l'effetto sia diverso Dai 5.000 10.000 che eravamo O mi spagno Certo E questo è tutto È inutile Allora io dico sempre Chi è causa dei suoi mali Pianga se stessi Ah sì sì Io fino a un certo punto Cerco di ragionare E parlare con le persone E dare il mio contributo Però No io lo faccio con i video Perché ormai Non si può ragionare Cioè È inutile Non arrivi allo scopo Io ho trovato dei video Molto esplicativi Uno di Camilleri Dove dice che il problema dell'Italia In realtà è l'analfabetismo Cioè l'ignoranza L'ignoranza Ma non l'ignoranza Che dire tu sei scemo Non capisci No 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 Il problema è che la gente Si affida alle televisioni Non si affida con senso critico Ai libri Ai giornali Alla storia passata Cioè uno per spiegarsi La storia presente Basta che va un po' indietro Certo Anche di qualche annetto Eh ce ne vuole Voglio giusto lanciarvi una chicca La banca Rasini No? Chi la fa? Noi ne stiamo parlando C'è da tempo Perché vogliamo preparare De De Pleano Poi da distribuire ai gazebi Che ho detto A un nostro amico attivista Di prepararsi bene l'argomento Io ve lo dico proprio in breve La banca Rasini Praticamente C'era già la mafia C'era Sintona In questa banca E c'era Come Aiutami Come amministratore Poi funzionario Chi c'era? Il papà di Berlusconi Cioè Allora se uno Si va a vedere un po' Il passato Riesce a spiegarsi Il presente Ecco perché Berlusconi Poi ha continuato Durante la sua attività politica Su quella scia Ha fatto un bandito Con De Lutri Che ancora adesso È in carcere Addirittura L'hanno condannato di nuovo Non so per quanti anni Sempre per mafia E quindi Cioè io lo dico sempre Alla gente Andate un po' Indietro A leggervi La storia del passato Questa banca Rasini Risulta su tutti i siti internet Non c'è bisogno di andare Sul blog di Grillo Io sono andato su Wikipedia No ma non ne parlano Gianfra Così come non ne parlano Della regione Sicilia Ma tu hai Notizie della regione Sicilia Da quando è stato letto Il presidente del centro-destra No E che fine non si sa niente Né se sono morti Né se sono vivi Perché Purtroppo parte l'ordine Che non si debba parlare Si parla solo di Roma Cioè Incessantemente di Roma Si vanno a vedere I sottopassi Le buche Il fiume che sporco lì Cioè ogni buco Diventa un argomento Di discussione su Roma Ma delle altre cose Le altre catastrofi Non se ne va Non se ne va Oppure non si parla Del fatto che a Roma Al municipio 10 Sono state coperte Oltre mille buche Gianfra Solo in municipio 10 10 Oltre mille buche Che periferia 10 municipi sono a Roma Solo in municipio 10 Ci sono mille buche Pensate un po' A Montoro ci sono mille buche Pensate no Ma comunque ci sono ancora lì Poi giustamente Il nostro amministratore sindaco Che salutiamo Si è giustificato Dicendo che è un cantire aperto Va benissimo Noi aspettiamo Intanto le macchine si rompono Non è un problema Aspettiamo Giustamente Si è giustificato Dicendo che devono fare dei lavori Fibraottiche Infatti li stiamo vedendo Quindi aspetteremo Che poi le strade di Montoro Un giorno Diventino Credo più l'anno prossimo Io non voglio sospettare Perché ho delle previsioni Perché il clima Porta ad avere Senza troppa pioggia Senza troppo danni Fra primavera e strade Che poi c'è anche la coincidenza Delle elezioni Le elezioni sono Un momento particolare Quindi poco prima Delle elezioni Non si possono fare Da parte Ho visto pure dei personaggi Un po' scomparsi Dalla scena Della politica Di Montoro Che sono risorti Appariranno Appariranno Altre che la gamba Appariranno E' bello Perché poi Parlano di problemi Del territorio Cioè per quattro anni Scomparsi Poi l'anno che precede Le amministrative Tutti che vogliono Parlare di problematica E' una rinfrescata Bellissima Ma poi Il bello Sai quale Che erano stati Pure eletti Nel consiglio Cioè io non dico Di andare a buttare Le bombe a Bianchino Assolutamente Io con Bianchino Ci parlo Abbiamo avuto Qualche discussione Un po' più accesa Però Io ho sempre detto Sindaco La cosa che più Mi dispiace E' non vedere Un solo consigliere All'opposizione Cioè ci sta Raffaele Citro Per l'amor di Dio Però Da solo Non penso Cosa posso fare Più di quello che fa Certo Magari con l'aiuto Di un gruppetto Di uno o due Ma non dico Che dovevano chiedere Chissà quali cose Ma almeno Sapere più o meno L'operato Cosa intende fare Il sindaco In determinate occasioni Solo questo Cioè non è che Deve andare a fare Le denunce al sindaco O alla giunta Cioè qua non stiamo Parlando di fare la guerra Però andare un po' più a fondo Nelle varie operazioni Sul territorio Sui vari progetti Le opere E esprimere disaccordo Magari come sul bocciodromo Costruito a piazza di Pantolo Che costerà 400 mila euro Se non c'è Loro dicono Che purtroppo Hanno dovuto fare così Perché se no i fondi Si perdevano Qua ci piacciono i soldi No vabbè No no Ma noi ci adeguiamo Assolutamente Non protestiamo Però sinceramente Io dico sempre Che è meglio operare Per 15 frazioni Anziché per 3 o 4 E se una cosa si può farla Si deve fare per tutti E non per 1 o per 2 Questa è la mia mentalità Poi ognuno giusto Lui ha vinto Come già ci ricordava E gli si fa fiducia E disse ragazzi Ho vinto io Io ho apprezzato molto Le vostre proposte Guarda io non dimentico mai Le sue parole Perché purtroppo Ce le ho proprio scolpite Dentro al cuore Lo voglio bene No ma io lo voglio bene In fondo lo voglio bene Poi è un grandissimo amico Di mio padre L'importante è che non Non lo posso maltrattare Se no mio padre Mi tira le orecchie Non ci deve privatizzare l'acqua Non ci deve non combinare No ma infatti Io penso che lui sia d'accordo Su queste cose Ma abbiamo un problema serio Con il compostaggio Il grande sito Che vogliono fare a Fisciano Mi sembra che il sindaco di Fisciano O di Mercato Sansegno Non abbia accettato Diciamo di firmare L'accordo preventivato Con i comitati cittadini Perché in realtà Anziché di stimare la cosa In base a una struttura Che porti 32 mila tonnellate Io dico io Ma gli abitanti Che dovranno soffrire Di questa zona Penso che gli basti 4 o 5 mila tonnellate Non devono arrivare A 32 mila tonnellate Dice sì Ma quella La comunità europea Ha stanziato questi soldi Sti 46 milioni di euro Insomma Ci sono Una serie di investimenti La zona aria Ma lo sanno Che ci sono 8 mila abitanti Intorno a questa Quest'umido Che ci sono Le compostiere domestiche Che ci sono Le compostiere di quartiere Queste cose qui Sono cose proposte da noi Le cose che Che costano meno Proposte da tutti Che danno più occupazione Che danno più occupazione Che costano meno Ma sì Noi non abbiamo neanche Un'isola ecologica Come c'è la Solofra Ancora non so Diciamo che adesso È iniziato un po' Ad attrezzare Se non mi sbaglio L'isola ecologica Così ho sentito dire Però proprio per Mi sembra che c'è qualcosa Inizia ad esserci qualcosa Speriamo bene Vogliamo ritornare un attimo Sull'argomento Allianza Inciucio Ci siamo un po' Allontanati Certo certo Allora facciamo andare Alla prima clip Di Di Maio Che racconta Nella data 24 Quindi un paio di giorni fa Una situazione Che insomma Hanno chiuso Con la destra Quindi Fa lui Un excursus Chiarificatore Quindi ascoltate con attenzione Prego la regia Allora Sono passati circa 50 giorni In cui abbiamo provato In tutti i modi E in tutte le forme Ad invitare La Lega di Matteo Salvini A firmare un contratto Di governo Per il cambiamento Di questo paese Matteo Salvini E la Lega Invece hanno deciso Di condannarsi All'irrilevanza Per rispetto Dei loro alleati E del loro alleato Invece Di andare Al governo Nel rispetto Degli italiani E per aiutare Gli italiani E' chiaro Che un governo Del centro-destra Non è più Un'ipotesi Percorribile Gli unici Forse che non l'hanno capito Sono proprio quelli Del centro-destra Ma Dopo il fallimento Del mandato Della Presidente Casellati L'ipotesi Di un governo Di centro-destra Tramonta Del tutto E dopo aver provato Per 50 giorni A dire a Matteo Salvini Che si poteva Firmare un contratto Di governo Per il bene Di questo paese Per un governo Del cambiamento Io voglio dirlo Qui ufficialmente Per me Qualsiasi Discorso Con la Lega Si chiude qui Detto questo Abbiamo apprezzato Le parole Del segretario Del Partito Democratico Martina Poche ore fa Sono parole Che vanno Nella direzione Di un'apertura Abbiamo detto Al Presidente Roberto Figo Che ce l'ha chiesto Che noi manteniamo La linea Che è quella Che portiamo avanti Dal giorno Dopo le elezioni Noi ci siamo Sui temi Per firmare Un contratto Di governo Per il cambiamento Di questo paese E non rinunciamo Ai nostri valori Alle nostre battaglie storiche Costi della politica Reddito di cittadinanza Lotta al business Dell'immigrazione Pensioni Aiuti alle imprese Alle famiglie Lotta alla corruzione Conflitto di interessi Sono temi Che abbiamo a cuore E voglio dire Anche qui Che Qualsiasi Contratto Di governo Dovrà essere In ogni caso Ratificato Dai nostri iscritti Sulla piattaforma Russo E' chiaro Che Il Movimento 5 Stelle E la Lega Il Movimento 5 Stelle E il Partito Democratico Il Movimento 5 Stelle E qualsiasi Partito Sono E resteranno Alternativi E questo Fatto Ovvero Il fatto Che siano Alternativi Deve essere Un segno Di rispetto Nei confronti Dei nostri elettori E degli elettori Dei partiti Ma è chiaro anche Lo sanno tutti Che nessuna forza politica Può fare da sola Nessuno Può dare un governo A questo Paese Da solo Ed è per questo Che abbiamo ribadito La nostra disponibilità A discutere Sui temi Nonostante Col Partito Democratico Ci sono profonde Differenze E ci sono anche Dei trascorsi Da non Ignorare Però Se riusciremo Vedremo A mettere al centro I temi Per gli italiani A mettere al centro L'interesse nazionale A far uscire dal pantano Le famiglie E le imprese italiane Noi sui temi Ci siamo E lo abbiamo Sempre detto Ed è anche per questo Che chiedo Al Partito Democratico Di venire al tavolo Non subito A firmare il contratto Ma a verificare Se ci sono i presupposti Per metterlo in piedi Capisco I tempi interni Del partito Conosco Le loro Dinamiche I loro organi Decisionali E quindi Rispetto Quei tempi Però è anche chiaro Che dobbiamo vederci Per capire Se ci siano In questo momento I presupposti Ci facciano sapere Quando sono disponibili Poi passiamo Eventualmente Alla stesura Del contratto Voglio chiarire Un paio di cose Qui In conclusione Noi non siamo Disponibili A dare la fiducia A governi tecnici Governi del Presidente Governi di garanzia Governi di scopo E chi più ne ha Più ne mette Quindi Se dovesse fallire Anche questo Tentativo Se dovesse fallire Questo percorso Che era il secondo Che avevamo individuato Sul contratto Di governo E allora Per noi Si dovrà tornare Al voto Decide il Presidente Della Repubblica Ma Se questo Tentativo Dovesse fallire Noi chiederemo Di nuovo Agli italiani Di esprimersi E chiederemo Che si esprimano Gli italiani Deve essere chiaro Questo passaggio Legato anche Al fatto Che noi abbiamo Circa 338 Parlamentari Con 338 Parlamentari Una forza politica Del genere Deve provare Fino alla fine A dare un governo Del cambiamento Al nostro Paese E un governo Del cambiamento Significa che Deve poter fare Le cose Che abbiamo Portato avanti Per anni Altrimenti Non è un governo Del cambiamento Ovviamente Il contratto Di governo Passa per delle Intese Quindi Si partirà Magari Da punti Non convergenti E vedremo Se ci saranno I presupposti Per creare Un governo Del cambiamento Ma Con 338 Parlamentari Permettetemi Di dire Non può esistere L'opposizione O esiste il governo O si torna al voto Ed è questo Il principio Che stiamo portando avanti Con grande responsabilità E che ci ha portato Sin dal primo giorno Delle consultazioni A tracciare una linea Che non abbiamo mai cambiato E che non abbiamo Deciso di cambiare Grazie a tutti Bene Rieccoci in studio Siamo sempre Nel programma Risentire le stelle Un programma Fatto di attivisti 5 stelle Attivisti Meetup Di Montoro In compagnia Con Franca Giuseppe 5 stelle Zitto Ah non si può Non si può pronunciare Un domenso Pacca La destra e la sinistra Giampa No ma noi siamo Sereni e tranquilli Perché diciamo Quando A livello nazionale Ci si apre Dal primo giorno Che abbiamo Più o meno vinto Perché stiamo A una maggioranza Del 30 Quasi 33% Con una maggioranza Che tra per esempio È anche crescente Perché ho visto Che per esempio Giù in Molise Insomma Che si atteggiano Che hanno vinto 9 gruppi Insieme 9 list 9 list Insieme per il Molise La migliore Noi con il Molise Libri in Molise Tutte 9 list La cosa bella Che il migliore di loro Ha preso il 9% Con Salvini O forse Italia Forse Italia Infatti Salvini Stanno ancora Il 38 Bravo Non il 32,5 Come a livello nazionale Ma stiamo crescendo No ma è bello No ma è bello Che nelle televisioni italiane Scusi di interrompo La notizia La dobbiamo dare Per interezza E con chiarezza Cioè praticamente Nessuna delle televisioni Del giornale Ha detto Che il Movimento 5 Senna E Molise Ha raddoppiato Di consenso Cioè nessuno No 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 Non hanno vinto Abbiamo vinto Loro hanno perso Hanno fatto un conto Un po' particolare Hanno fatto un conto Però non si sono Accorti Che questi tre Gruppi Che a livello nazionale Hanno avuto il 37% A livello molisano Hanno avuto il 22% Cioè nel senso che Mettendo insieme La Meloni Che ha confermato Il 4,7 Salvini Che ha beccato Intorno all'8 Così E Berlusconi Che ha preso Il 9,7 Quindi voglio dire Nell'insieme Sono arrivati Al 22 Non è che hanno fatto Trionfato Cioè un'altra metà Dei voti Tutte liste civiche Abbiamo fatto un esame Della situazione Chiarissimo Anche perché Abbiamo visto Le passate regionali Con De Luca La stessa cosa Con il centro-destra La stessa cosa Quindi diciamo Che è un motivo Che si ripete Purtroppo la legge Lettorale lo consente Si riuniscono Tutti insieme E io mi chiedo Ma il giorno Che a livello Di consiglio regionale Devono assegnare Degli assessorati E sono 9 partiti Cioè che fanno Litigano Infatti i regioni Non stanno facendo niente Alcuni sono passati All'opposizione Tutto stallo Mentre il gruppo unico Compatto Col 38% Che i 5 stelle Che parlano In modo coerente Sono quelli Pronti Pronti A proporre le cose A tenerle Dei chiare E non avranno Da litigare Con nessuno Perché non hanno Fatto nessuna coalizione Ma la cosa più forte Giofraga In Sicilia Il centro-destra Per mantenere la maggioranza Ha dovuto chiedere Al partito democratico Forse lo sanno in pochi Per eleggere Il presidente Della regione Dell'Ars Che poi non l'ho capito Perché l'Ars Vuol essere fuoco Facciamo i bravi Serve per guadagnare soldi Infatti Poverino Si lamentato Che se lui Non prendevi il vitalizio Andava di nuovo A vivere col padre Rischiava di andare a lavorare Andava a vivere proprio col padre Perché Era un morto di fame Pezzente Un parassito Alla fine dell'anno Non ce la fa Perché se no Le denunce Allora Io dico questo Che Mentre parliamo Diciamo Di questa destra Che ha trionfato Così dicono In Molise Quel povero Pd Coese Compatto Con altri due o tre partiti Che in Molise Dal 18% Che hanno preso La linea nazionale Si sono ritrovati Con l'8% Quindi sta scendendo Sta scendendo Sta scomparando Allora Io dico questo Non dobbiamo sparare Come sulla Croce Rosso Lasciamoli Diciamo Affiorare Con le loro idee Perché a me fa piacere Che Ognuno tiri fuori Quello che c'ha di buono È da dare al paese Perché ricordiamoci Che serve Qualcosa Per i cittadini Gianfrazi Hanno dato di buono Quello che è successo Negli ultimi anni Lascia stare È meglio che non fanno niente Ti voglio bene Tenetevi il buono Lasciateci il peggio Ok No perché Perché se le idee sono Legge Fornero Jobs Act Buona scuola Gianfrazi È meglio che ci siamo a casa Tutti quanti Allora io vorrei far fare Un'analisi Dal giornalista L'ultima notizia L'hai saputa A livello locale Che l'Andolfi Estrofra Si verrà ridimensionato E accorpato Già l'hanno fatto 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 Già tutto fatto Eh sì L'ortopedia non c'è più No Erra Erra no L'ortopedia risisterà Per alcune cose Erra andrà in rando Da qualche altra No no Ariane Irpino Ariane Irpino Pensano poco Ariane Irpino C'è nemmeno Ad Avellino Ariane Irpino Ma perché Ad Avellino Già c'è il primario Che è titolato Cammini là va Mentre ci sta Il primario Della riabilitazione L'amico caro Rumiani Che gestiva La riabilitazione All'ospedale di Solofra Andrà a Moscati No pensavo a Pordenuno Ci siamo salvati No No quelle due Sono le strutture Non è che fossi Come facendo sotto la leva Tu facevi i giorni di ricordo Ah ti sbatta a Pordenuno A me quello che preoccupa Perché adesso Hanno fatto come a Salerno Gli ospedali riuniti Cioè il problema È che a Solofra Non facendo questo Accorpamento con gli ospedali Dovrebbero anche creare Dei collegamenti Però scusami Se tu mi metti Erra ad Ariane Che faccio Poi da Solofra Che andavo a trovarlo Devo andare Se ti fai male Cerca di farti la croce No io spero di non farmi male Mi faccio la croce Per non farmi male Perché se no veramente No no Ma non se ne può E dico Così facendo Hanno perso Avellino Ha perso posti letto Cioè Si pensano che No pure Solofra Solofra è un ospedale Che veramente Guarda Fino a qualche anno fa Funzionava benissimo Ortopedia Insomma Sta perdendo corte Perché chi va Ma non è che riesca Ad andare Diciamo Ma bene Andremo tutti quanti Al Moscato Ed Avellino Dai Che dire Allora Stavo dicendo Se troviamo posto Bravo Ritornando a livello nazionale Vorrei farvi ascoltare Il nostro caro Che io stimo sempre di più Perché ha le idee chiare Sui 5 Stelle E parla in modo libero E uno dei pochi Che sta sul fatto quotidiano È il direttore Che si chiama Marco Travaglio Allora Ascoltiamolo Che parla Del presidente Nonché Cavaliere Cavaliere No Cavaliere Gli hanno nototto Perché insomma Con una sendenza Insomma una condanna Non si può stare Tra i cavalieri Ha fatto assistenza Ai vecchietti Ma ogni tanto Qualche guardia del corpo Che stava con lui Si dimenticava Chi era il vecchietto Giambra Trovava qualcuno Con la giacchetta Si portava E va bene Ma intanto lui Dice mi consente Di spalle Poi tu Sono tutti anziani Quando non inciampa Insomma Lo riescono a riconoscere Dal caschetto Perde pure i colpi Si dimentica le cose L'ultimo contratto Fatta da Vespo Quando era Un milione di posti di lavoro Dieci milioni di posti di lavoro Cioè tutti i cifri Daremo mille lira ogni E' un milione di lire Va benissimo Ascoltiamo Cavaliere Cerchiamo di tagliare Questi commenti Prego la regia Tutta la casa Che deve essere impregnata Ok Penso che Berlusconi Abbia ottimi argomenti Per tenere Avvinto a sé Come ledera L'alleato leghista Si è molto difficile E molto pericoloso Per gli alleati di Berlusconi Allontanarsi da lui E sappiamo benissimo Che fine ha fatto fare Berlusconi A quelli che ci hanno provato In passato Quando tu dici Che è difficile Per Salvini Probabilmente Allontanarsi Da Berlusconi A che cosa pensi Concretamente? Penso che Berlusconi Si è abituato A far manganellare Dalle sue televisioni Dai suoi giornali Tutti quelli Che si mettono Di traverso Sulla sua strada Se poi sono addirittura Suoi alleati O suoi ex alleati Diciamo che Ci mette un carico Da undici particolare Mi ricordo Il caso di Fini Ma mi ricordo I casi di tantissime persone Che hanno provato A fare un passo di lato Ad allontanarsi Un pochino da lui Sono stati immediatamente Oggetto di pestaggi Che li hanno praticamente Lasciati senza vita Politica almeno E quindi non credo Che Salvini Voglia fare la stessa fine Ogni tanto I giornali di Berlusconi Gli lanciano anche Degli avvertimenti Non ti conviene Stai attento Sei pronto a venderti Insomma Il potere Dei soldi E dei media Serve soprattutto A quello E Berlusconi L'ha sempre usato Per questo Io gliel'ho visto usare Nel 94 Contro Indro Montanelli E mi è bastato Per capire Quello che sarebbe stato Il ventennio successivo E devo dire che Non si è mai discostato Da quel modello O ti compra O ti pesta Oppure rimani Un suo fedele Esecutore Un suo fedele Dudù Per usare Una similitudine Che ha fatto L'altro giorno Di Battista Chi non fa dudù Si prova a comprarlo Se poi non si riesce Lo si mena Io non penso Che Salvini Reste attaccato A Berlusconi Perché teme Chissà quale Vendetta Mediatica Le televisioni Non lo so Non lo so Non lo so Questo poi per carità Travaglio è sempre Molto più informato Forza Italia Ha rivendicato La presidenza Delle camere Che spettava Al centrodestra Per una Berlusconiana Di ferro Non si sa bene Per quale motivo Salvini Che aveva strabattuto Forza Italia L'abbia accettata Archivieremo finalmente Questa truffa Che chiamiamo Centrodestra È una coalizione È una coalizione Finta Con dei programmi Al suo interno Completamente opposti Vogliono fare Massa critica Per rappresentare Quel 37% Che se ufficializzassero Il fatto che Non sono d'accordo Su nulla Tornerebbero a contare Ciascuno Per quello che rappresenta Uno il 17 L'altro il 13 L'altro il 4,5 E quindi Non c'è nessuna possibilità Che il centrodestra Unito Trovi Il restante Che manca Per fare 50 E governare A meno che Il PD Non decida Di fargli Da appoggio Allora Le cose che ha detto Oggi Martina Sono le stesse Che ha detto Uscendo Nell'ultima due settimane Da entrambe Le consultazioni 4 punti Reddito di povertà Il lavoro I poveri E le famiglie Sono le cose Che erano Nel programma Del PD Il programma Del PD Il programma Del PD Guardate Che questo Il programma Del PD Io mi auguro Che non solo Martina Che rappresenta Più o meno Se stesso Io l'ho ribattezzato L'autoreggente Ma Serracchiani Calenda Fassino Franceschini Orlando Erano già arrivati A aprire la pista Di quel dialogo Con i 5 stelle Avevano cominciato Emiliano E Boccia Insomma Cominciano a essere Dei personaggi Di un certo peso Che Con tutto il rispetto Per Martina Diciamo Costituiscono una bella parte Di quel partito Se vogliono guardare Il 5 stelle Ci parlino Perché noi li paghiamo Per fare politica Non per starsi simpatici Antipatici Farsi dispetti Farsi le ripicche Dirsi gnè 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 Come i bambini All'asilo Signore e signori Prego Guardate qui Ok Eccoci qua Partecipare Collaborare Dire la vostra Noi siamo aperti A tu Stai telefonato No Stai telefonato Ce l'ha facita 6825523565 E poi al massimo Un messaggio whatsapp Se uno non vuole proprio esporsi Al 39 30 47 60 75 Io volevo vedere Se hai il programma di Claudia Quello che fa su radio Kiss Kiss Non so se è quello un po' erotico Tutti a telefonare Forse dobbiamo cambiare format No vabbè Ma io Mi possono mettere Pure in disabiglie Scherzo Quei pochi Che stanno ascoltando Tu la voce radiofonica Ce l'hai Il problema sono io Che sono un po' No tu ce l'hai La voce si trasforma No Ma hai i tuoi picchi di energie Che affascinano tantissimo I nostri ascoltatori Allora che dire Travaglio ha detto un po' le cose Facendo un sundo Di come si regge La coalizione di destra Ha raccontato anche Questa sinistra Velata Che dovrà fare i conti Il 3 maggio Che dovranno incontrarsi Con Renzi Quindi insomma I renziani Stanno aspettando Che il loro capo Dica o meno Sì o no A questa cosa Perché insomma Non è che regge molto La coalizione Che dovrà sostituire Più della metà Dei parlamentari Del PD Sono renziani Facendo i conti Sui vari deputati Non è che ci sia Una maggioranza Un domani Con quelli di 5 stelle Che raggiunghino Insomma una serenità Ecco Devono stare A linea dei coperti Con la volontà Di fare Un vero cammino Perché noi parliamo Di contratto I 5 stelle Parlano Di un qualcosa Che serve Al cittadino italiano E quindi Ci auguriamo Davvero Che Si ha Un miracolo Un miracolo Ok Qua ci vuole San Gennaro Tutta la corte celeste Allora Per poter cambiare Discorso Cambiamo argomento Ma i miracoli Li fanno anche In comunità europea È vero? Io dico che le api Qui Esultano Esultano Infatti Come mai Giuseppe No veramente ce lo dice Franca Perché si è studiato l'argomento Io questo Cioè se mi volete far leggere tutto A me me lo dico No no per piacere No dai Allora Vai Franca Con 18 voti su 4 Ah erano molti Però diciamo Che l'Italia è stata Proprio a favore Del bando Di questi 4 Ni Neo Eh Neo Qui cascalassini Nicotinoidi Hai detto Mi sembra Ecco Spieghiamo che cosa sono Questi neonicotinoidi Non sono sigarette No Che vengono usate Alla fioritura Ecco Pesticidi Pesticidi A profito farmaci di sintesi Ecco sì Un po' più vicino al microfono Franca La legge C'è richiamato Da dietro al tablet Traffè Le facce Aio Ciao faccio Ma ti tu vicino al microfono Vai Vai Franca Vabbè Volevo elencare Quali sono questi 4 Neonicotinoidi Che non possono essere usati All'aperto Ecco All'aperto però Sono stati banditi Definitivamente All'aperto però All'aperto Sottoserra Eh beh già è qualcosa Cioè in Italia Tutti in Europa Le api possono circolare all'aperto Questa è la buona notizia Diciamo a metà a metà Faremo più miele Speriamo Sì ma sotto le serbe Ma secondo me Dovevano essere banditi Per Sardinian Anche sotto la serbe Piano piano Un passo alla volta Ci arriveremo Ci arriveremo Senti Giuseppe Ci arriveremo Ma le elezioni europee Quando ci saranno Perché potete farci sentire L'anno prossimo L'anno prossimo L'anno prossimo No ma perché Un amico di Montoro Anni fa Prima che io iniziassi Diciamo l'attività Sul territorio Mi disse Giuseppe Non perdere tempo Il montorese O meglio l'italiano Non fa niente Per senza niente Allora diamo una motivazione Visto che in Europa I soldi Diciamo Non vengono restituiti Oppure parte dei soldi Viene utilizzata Dai nostri portavoci Sui vari territori No? Con iniziative E cose ambientali Quindi Giovani Fatevi avanti Iscrivetevi Venite con noi Fatevi conoscere Perché ci sono porte Che si possono aprire E insomma Diciamo Poi non fa tanto schifo Stare con noi Infatti Gianfranco non è che proprio Nemmeno io sono così No 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 Non siamo in condizione Non puzziamo No no Ci troviamo spesso Anzi anzi Per la Montecere C'è Franca invece Che sta chiudendo Il discorso Sugli ambienti Scusate Franca Abbiamo divagato Colpa di Gianfranco Non ti preoccupare Volevo dire I quattro nomi Vai vai Neko Nicotinoide Banditi Cioè che erano Pericolosissimi Vai Allora Acetamiprid Acetamiprid Non è l'aceto Vai Cioè è proprio Prodotto come si chiama Sì sì Il nome del prodotto Tiacloprid Sì Sulfoxaflor Che caspite no Che dulcis in punto E l'ultimo Flupliradifurone Ok Dopo questa Diciamo Aspetta Breve elenco Franca Vi annuncia Che metterà Questo piccolo elenco Anche sulla nostra pagina Facebook Meetup Di Beppe Grillo Montoro Per gli agricoltori Del territorio Interessati A non utilizzare Questi pesticidi Che uccidono le api E vi voglio dire Utilizzare Andremo anche noi Franca Nelle farmacie Agrarie del territorio Ci facciamo una Passeggiatina Che dici Giusto per vedere Se viene utilizzato Non viene utilizzato Sai ho fatto un piccolo Sondaggio personale Per quanto riguarda Il glifosato Giustamente Alcuni mi dicono Sai Giuseppe Se lo utilizza Quello la Non lo so A piazza di Pandola Attira i clienti Lo devo utilizzare Pure io Quindi Concorrenza Si no Perché dice che Purtroppo Ho fatto un sondaggio Che non ci sono Le sostanze Che non fanno male All'uomo Regolamentato Dall'Unione Europea Cioè Non ho capito Sono sostanze Fitosanitarie Che non fanno male Né all'uomo Né alla natura Quindi diciamo Quelle approvate Dall'Europa Per l'agricoltura biologica È difficile trovarle Ah Meno male Cioè Diciamo Cioè Cioè È più facile Trovare i fitofammaci Di sintesi Che questi qua Ah Io pensavo Fosse una bella notizia No È una brutta Ah Ecco a posta Tutta a posta Perché se voglio fare Il biologico Non lo posso fare Giusto per Una parentesi personale Guarda Io ti apro Una parentesi personale Che ho vissuto Sulla mia pelle Praticamente Io ho avuto una figlia Ringraziando il signore Nel 2004 Per avere la seconda Ci ho impiegato 10 anni Grazie Sapete perché? Noi vi spiego subito I diserbanti Usati a Montoro Hanno Diciamo Danneggiato E non poco La fertilità mia Del mio sperma Proprio diciamolo Chiaramente tanto Non è una Una brutta parola Per capirci No? Spermatozola Concevimento Cose L'ovulo Si incontrano Tutte queste cose qua Che lasciamo poi Ai tecnici Che non sono tecnici Ma si è capito Ci ho messo 10 anni Perché ho dovuto fare Delle cure Per vedere poi Se lo sperma Ritornava in attività Diciamo normale E ci sono avuto 10 anni Ho fatto delle analisi E' stata riscontata Presenza di diserbanti Anche nel sangue Lo screening Come lo chiamano E anche mio cognato Ha avuto di questi problemi Per avere la seconda figlia Quindi vedi Io veramente faccio Un appello Con il cuore Alle persone Quando io trovo Queste persone Che usano Il seccatutto Che poi alla fine Quello è Il principale danno Viene dal seccatutto Un po' di sale Di aceto Usato sotto i noccioli Sotto i castagneti Intorno alle case Addirittura ho trovato persone Che lo usavano Intorno alle case Cioè però 10 metri di giardino Si può usare Pure un tagliacolo La spruzzano bello Tranquillamente Sulle piazze Non sanno Non sanno Il danno Che producono all'uomo Io l'ho vissuto Sulla mia pelle Ci sono voluti 10 anni E' un miracolo Il secondo Non è solo Questo è il danno La cia che è La prima Vabbè Poi vogliamo Riferirci Anche il danno ambientale Del fiume Solofrano Sì 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 Ultimamente C'è stato un altro Sversamento Il caro Fabio Orvieto Appuntualmente Segnalato ai carabinieri Intervenuto sul posto Abbiamo fatto anche Un video di quello Che è successo Questa schiuma bianca Che sembra sempre Dash Più bianco non si può Ma l'acqua Non diventa mai Bianca trasparente Rimane sempre Sporca Puzzolenta Fraudolenta Un marciume E' questa diciamo E' la piaga di Montoro Una delle tante piaghe Non la seconda Noi diserbanti utilizzati Però io un appello Lo vorrei fare No ma io non mi fermo Franca Tante vere che Io vorrei fare un appello Vuoi fare un appello? No io volevo fare un altro appello Sì sì E' impensabile Che abbiamo un pozzo A chiusa e terrana Messo sotto sequestro Perché l'acqua è inutilizzabile E siamo tuttora Alle stesse fasi Del 2013 Quando è stato scoperto L'inquinamento Delle falde acquifere Non sono state fatte Bonifiche Non si fermano Gli diversamenti Siamo allo stesso punto Di partenza E non è stato Fatto assolutamente niente Allora noi De Movimento 5 Stelle Lo dico come gruppo Stiamo iniziando a fare Dei tavoli Di studio Per programmare Gli interventi Da fare sul territorio Se non si muovono loro Lo faremo noi Andremo a mettere pressione In regione Fino a livello nazionale Perché queste cose qua Nell'era di oggi Dove vengono mandati Satelliti A vedere le stelle A vedere gli altri pianeti Gli altri universi Non si possono più accettare Cioè sono cose inaccettabili Non lo faccio per slogan Ma lo faccio proprio Affinché Il dottor Bianchino Il dottor Vignolo I due sindaci Delle amministrazioni locali Si attivino Affinché si metta fine Agli diversamenti Perché se non mettiamo fine Allo sversamento Nelle acque O addirittura Come si vociferava Negli ultimi tempi Nelle fognature E la gente sentiva la buzza Anche a San Pietro Non potremo mai fare Il secondo passo Che è quello delle bonifiche Quindi Spenderemo dei soldi inutili Andremo a buttare Inquinamento Sulle bonifiche Inquinamento Sull'inquinamento Quindi va dato Una parola di Basta Stop Se non lo faranno noi Io vi ripeto Noi già ci stiamo attivando Con i nostri parlamentari Con i nostri portavoci regionali Stiamo decidendo Che zion intraprendere Anche perché adesso Ringraziando Dio Ringraziando gli elettori Siamo di più Abbiamo un numero Molto più consistente Infatti io li ho contattati Tutti Tutti i portavoci di Avellino Eletti I nuovi eletti Li ho contattati E ho detto Signori Adesso ci dovete dare una mano Questa storia Si deve chiudere A Firenze A Santa Croce Sul anno Il governatore Rossi Del PD Ha fatto altri depuratori Io non vedo perché Il governatore della campagna De Luca Non possa fare un altro depuratore Quanto meno Far fare Scusate il gioco di parole Bisticcio Ma io non sono Un tecnico Non sono un politico Non sono neanche un letterato Sono un semplice cittadino Far fare un secondo depuratore Oppure far fare i lavori Che il depuratore Per quale è stato messo Sotto sequestro Se le coperture Delle vasche Sono state fatte Se diverse cose Che non erano in sicurezza Sono state fatte E noi andremo proprio a chiedere Fatto Prima di tutto Per vie legali Cioè come si fa Richieste di accesso agli atti Dove si fa Io non lo so Ecco perché mi sono rivolto Ai miei portavoci Perché loro sono sicuramente Più competenti di me E lo faranno loro Io mi batterò E li inciterò A fare queste cose Perché il movimento Nasce anche E soprattutto A difesa dell'ambiente Oltre che fare E politica E questo è un tasto Che a me mi preme molto E cercherò di Farò tutto il possibile Affinché si faccia qualcosa Di concreto Perché non è più accettabile Vi ripeto Situazioni come quelle Dell'ultima volta Dove c'era Tranquillamente Uno sversamento Che è durato più di un'ora E si vedeva questa schiuma Partire da Da sopra Da molto sopra Proprio nel mezzo Delle congerie Che poi non si Non si riusciva più A risalire alla fonte primaria E' intervenuto anche Il presidente della Votiso L'abbiamo chiamato Sono intervenuti Carabinieri di Solofra Dopo diverse chiamate Queste cose Non si possono più accettare E nemmeno vedere C'è il depuratore Va usato Se le aziende hanno difficoltà Per le spese Di smaltimento Di depurazione Lo dicano E bisogna far fronte Bisogna andare incontro a loro E loro devono incontro All'esigenza dei cittadini Questo è Ne più e ne meno C'è una discussione Molto pagata Volta a risolvere i problemi A non inquinare più l'ambiente Perché a Montoro Solo nella frazione di chiuso C'è un numero di persone Che si ammanano di tumore Molto più Diciamo Molto più congruo Rispetto alle altre frazioni Di Montoro Non lo dico tanto per Fabio Orviete Ha fatto delle raccolte Firme Che poi non sono andate in porto Perché la gente ha avuto paura Come al solito Qualcuno ha avuto paura Di perdere il lavoro E in questo suo giro Ha visto che molte persone Si ammanano di tumore Quindi è ora di darsi da fare Detto questo Signori cari Visto che parliamo di inquinamento Parliamo anche di natura E di agricoltura Noi chiudiamo la trasmissione Con una piccola clip Che spiega Da parte del nostro portavoce regionale Che si chiama Michele Cammarano Racconterà Le proposte Le modalità di crescita Perché in Campania Grazie appunto A una giusta opposizione A una valida E propositiva Opposizione Da parte di questi sette Eroi Che stanno Alla regione A combattere Con il nostro caro governatore Che fa sempre a modo suo Ci sta qualcosa di interessante Per tutti i cittadini Della Campania Quindi ascoltate questa clip E dopo chiuderemo Salutandovi Quindi vi aspetto Fra pochi minuti Prego Gli agricoltori campani Coltivano ogni giorno 23.000 ettari di vigneti Che sono più o meno Un terzo Di quanti se ne coltivano In la produzione nazionale Se rapportiamo questi dati Scopriamo che Un ettaro coltivato a vite In regione Campania Vale più o meno Un decimo Rispetto a un ettaro Costitato in triuli O un sesto Di terra Costitato in veneto Questo minore valore Non vuol dire Che gli altri Fanno un vino migliore Del nostro Infatto Tutti noi ce la prendiamo Con la storia Ma io dico che la colpa è nostra È evidente che la gente Poco seria Quando parla di sinistra o destra Ma cos'è la destra Cos'è la sinistra Ma cos'è la destra Cos'è la sinistra Fare il bagno nella pasca È di destra Far la docce Invece di sinistra Un pacchetto di malborro È di destra Di contrabando È di sinistra Ma cos'è la destra Cos'è la sinistra Una bella minestrina È di destra Cos'è la sinistra Ogni giorno 23.000 ettari di vigneti Che sono più o meno Un terzo Di quanti se ne coltivano In Veneto Che è la regione Più produttiva Ok abbiamo avuto problemi Con il video Che insomma Ha avuto qualche problema Tecnico Però vorremmo chiudere Salutando tutti quanti Qui Raccontando un pochettino Che l'agricoltura Va tutelata Siamo sempre propositivi Abbiamo voglia Di partecipare Perché qua I terreni bio Sono quelli che Sono il futuro Perché basta con Le culture intensive E quindi Ci sono delle possibilità Di cambiare Con degli aiuti E quindi Noi aspettiamo Sempre proposte vostre Affinché Abbiate voglia Di continuare Ad andare su un genere nuovo Che è quello più naturale E diciamo E rispettoso Per l'ambiente Detto questo Ci sono Da fare i saluti A tutti I nostri radioascoltatori Ci ritroveremo Venerdì prossimo Franca Ovviamente Ci sono anche Se vi va di sentirci ancora Di seguirci Sì perché siamo sempre Pronti a confrontarci Con voi E E far sentire Per chiudere la trasmissione Con un saluto Crozza Che fa Che fa una Una sua Diciamo Osservazione Su come stanno andando Queste lezioni Questi posti Queste consultazioni Osservazioni in chiave Moristica Sì 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 Perché lui è un bravo Come satirico Buonasera Buonasera E ciao Alla prossima puntata Di venerdì Ciao Come sempre Cominciamo Che fuori il tempo Che fa Con Maurizio Crozza Ciao fratello Mauri Fabio Più giovane Di settimana In settimana Rottello Fabio Guarda Che abbiamo sbagliato tutti Cosa In che senso Noi abbiamo pensato Che il Molise Fosse come l'Ohio Invece no Hai visto Altro che Ohio Il PD Dopo aver visto I risultati del Molise Ha detto Oh Aia Minchia Ha preso una tramvata Il PD Ma una tramvata Fabio Se pensi Che il Molise Il PD Lo governava Oh Hanno preso L'8,6% Fabio Ti rendi conto Che praticamente In Molise Il PD Si è estinto Come l'avvoltoio Capovaccaio In Puglia Tu sai Che il WWF Sta cercando Di reintrodurre Disperatamente Il Capovaccaio In Puglia Io vorrei rivolgermi Al WWF Si E dirgli WWF Lasciate perdere La reintroduzione Del Capovaccaio Tentate Di reintrodurre In Molise Qualche esemplare Di sinistra Che al momento Non ha capo Ed è tutto Un vaccaio Veni Ma Tu mi dirai Ma come Non è facile Che Come si fa Come si fa Reintrodurre La sinistra Si fa Ecco a